In America viene commesso un furto ogni 11 secondi, un'aggressione ogni 65 secondi, un reato di sangue ogni 25 secondi, un omicidio ogni 24 minuti e 250 violenze carnale al giorno. Un'aggressione ogni 25 secondi, 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 Dai, per favore No, adesso basta Ma perché ammucchi la roba così? Che pizza che sei È il poliziotto dei casi impossibili Tu sei il male e io sono la cura È un duro, è l'uomo delle emergenze Chiama il cobra Detestato per i suoi metodi, temibile, implacabile Io vado pazzo per la conversazione Per il ciclo I duri di Rete 4 Silvester Stallone Cobra Sabato 21 e 20 Per il ciclo I duri di Rete 4 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E 250 violenze carnale al giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.